Allora ragazzi, ciao a tutti, stiamo qui a commentare la partita Ternana-Parma, finita 1-3 per gli Emigliani. È una partita che la Ternana sostanzialmente ha giocato come avrebbe dovuto. Peccato aver preso il primo gol su un errore, direi grossolano di Capuano, che a mio parere doveva intervenire subito per evitare il confronto in velocità con Bonni e spedire direttamente la palla in fallo laterale. Il 2-0 è stato sfortunato perché è un rigore causato da uno stop errato di Amaducci che poi è andato a colpire il pallone prendendo però la gamba del giocatore del Parma. Non è un rigore solare ma ci può stare. Poi però la Ternana ha cominciato a giocare, arrivava bene sulle fasce, come spesso fa d'altronde, meno bene, direi, i cross che dalle fasce arrivavano, soprattutto nel primo tempo, specie quelli di Carboni, che è un giocatore a mio avviso preziosissimo in fase difensiva ma che ha ampi margini di miglioramento in fase offensiva e di refinitura dell'azione. Arriviamo spesso al cross anche non troppo disturbati con dei bei 1-2 con sovrapposizioni alle volte della mezzala e alcune volte, specialmente con Lucchesi, anche del braccetto difensivo ma non riusciamo mai a mettere delle palle adatte ai colpi di testa dei nostri attaccanti. Questo non l'abbiamo fatto nemmeno nel secondo tempo, quando avevamo contemporaneamente in campo Favigli e Raimondo che riuscivano magari a riempire le aree a maniera più omogenea per i cross che arrivavano dalle fasce. Un pochino meglio Casasole invece, avevamo appunto creato, dicevo, i presupposti per andare sul 2-1 con quella grandissima giocata di Raimondo che ha colpito il palo e dopo c'è stato l'episodio del rigore, che ovviamente è inutile commentare ci sta sbagliato il rigore, probabilmente da come ho visto io dalla curva est quindi sopra a dove ha calciato Raimondo Credo che lui abbia voluto calciare dalla parte dove si è tuffato Cicci Zola avendolo visto all'ultimo ha un po' bloccato il tiro e la palla si è alzata perché il corpo si è sbilanciato all'indietro cercando di frenare Va bene uguale, non è importante, è bene anche la personalità nel calciarlo e sono sicuro per Antonio che questo periodo di difficoltà casalinga che poi è relativa perché l'importante è che i gol vengano fatti sia in casa che fuori non c'è grossa differenza ma comunque speriamo di poter gridare il nome di Raimondo molto presto e liberati Poi un secondo tempo che pronti via sembrava essersi messo sui binari giusti perché l'entrata di Stefano spacca un po' la partita andando a fare quei cross precisi e tagliati dentro l'area che Carboni non aveva fatto rientrando spesso sul suo destro che ha il piede forte e andando poi a mettere queste palle tagliate dove per poco Raimondo non riusciva a colpire di testa ma fortunatamente sulla respinta di Cicci Zola c'era Luperini pronto a ribadire in rete Per inciso io Luperini lo vedo dappertutto è un giocatore informissima che sta dando tanto alla Ternana lo ha fatto anche a Palermo ma lo ha fatto in generale molto spesso ovvio che nelle partite in cui riusciamo a essere più profondi a portare più volte il pallone dentro del rigore può essere determinante anche in fase realizzativa o di assist come è stato in queste ultime due partite dove sicuramente almeno per quanto mi riguarda è stato nettamente il migliore in campo sia a Palermo che con il Parma quello che invece non va bene secondo me è l'aver preso il gol del 3-1 subito dopo aver realizzato il gol del 2-1 non credo siano passati nemmeno 5 minuti adesso non ricordo di preciso ma saranno passati 3-4 minuti massimo dal gol del 2-1 di Luperini all'autogol di Casasola dell'1-3 questo perché è importante cercare di evitarlo non tanto perché si perde 1-3 con il Parma che ci può stare è ampiamente prevedibile quanto perché in Serie B le partite vanno secondo me sempre tenute vive quindi se tu riesci anche a stare 1-2 per tutto il match senza andare a sbilanciarti e cercare il gol del 2-2 immediatamente alla fine nell'arco dei 90-100 minuti si riesce, si può riuscire a trovare magari un calcio d'angolo una mischia, un tiro da fuori che ti può far pareggiare le partite e far portare a casa punti detto questo poi la squadra a me è piaciuta ha dato tutto come al solito io a parte un periodo d'appannamento probabilmente a inizio anno nuovo con Breda e l'inizio di Lucarelli dove la squadra sembrava aver mollato un po' a livello anche agonistico ma probabilmente anche a causa delle condizioni fisiche direi che la squadra corre, sta bene gioca anche un calcio pulito quando riesce e ovviamente questo dipende un po' da qual è l'attaccante è chiaro che con Favilli si tende di più a cercarlo con palle alte con Raimondo si tende più a cercare la profondità molto bene Casasola questa partita secondo me ha spinto bene anche a Palermo aveva dato molta corsa sulla fascia destra sia in fase difensiva che in fase di sovrapposizioni offensive però come dicevo prima dobbiamo migliorare un po' anche nei cross ad esempio il classico goal palla sul fondo esterno fascia che la mette sul dischetto del rigore e arriva un centrocampista, il trequartista, l'attaccante che si sgancia e tira a botta sicura devo ancora vederlo nella ternana è strano che non riusciamo a fare questo tipo di goal perché tutto sommato ci arriviamo anche bene sul fondo sia con Casasola che con Luperini a volte anche con Carbone dall'altra parte dobbiamo essere più cattivi detto questo il bilancio di queste ultime tre partite io avrei firmato per quattro punti in queste tre partite sono sincero però altrettanto sinceramente dico che nessuno dei tre risultati lo avrei pronosticato infatti io pensavo che i quattro punti sarebbero arrivati dalla vittoria contro il Lecco da una sconfitta a Palermo e un pareggio in casa con il Parma comunque l'importante è che la classifica è stata mossa in queste tre partite specie nelle ultime due dove si affrontavano due corazzate sostanzialmente la ternana è riuscita comunque a portare a casa tre punti adesso viene il bello adesso viene il Pisa andiamo a giocare una partita che vedendo l'andata non sembra per niente uno sconto diretto ma il Pisa è ancora lì nonostante la vittoria nell'ultimo turno proprio ieri in trasferta è a portata di mano specialmente io credo che la ternana deve innanzitutto puntare al play out e puntare alla posizione migliore per il play out quindi il quinto ultimo posto quello che attualmente occupiamo in secondo luogo dobbiamo cercare di tirare nel Calderone a mio avviso anche Reggiano e Suttirol io il Pisa lo vedo un pochino più attrezzato per una salvezza più tranquilla ma Reggiana specie la Reggiana ma anche il Suttirol che comunque sia i suoi risultati li fa sempre potrebbe incanalare quelle due o tre partite dove non riesce a far punti e noi possiamo rosicchiare qualcosa ricordiamoci adesso arrivano le partite quelle abbortabili abbiamo il Pisa, il Cosenza avremo il Suttirol fuori casa all'ultima giornata avremo la Feral Pisa ci sarà l'Ascoli in casa quindi abbiamo molti sconti diretti facciamo passo dopo passo arriviamo e puntiamo al quinto e ultimo posto perché la salvezza va giocata fino all'ultimo secondo siamo salvi sia se arriviamo decimi che arriviamo quinto ultimo e vinciamo il play out quindi calma risettiamo tutto andiamo avanti partita in partita guardiamo a questi tre punti a Pisa è importantissimo però a Pisa non perdere non perdere perché se perdi togli una squadra da quella che poi è la lotta per non retrocedere manteniamole più possibile perché la serie B è strana due o tre risultati utili possono portarti su due o tre risultati negativi possono farti ritornare all'inferno quindi teniamocele possibilmente tutte vicino senza regalare punti a nessuno io spendo le ultime parole di questo video per Raimondo so che non ne ha bisogno perché l'ho visto che è rientrato per primo nel secondo tempo ho visto che ha preso la palla dopo il gol quindi non è un ragazzo che se la possa prendere per questi episodi del brutto rigore calciato ma tranquillo Antonio vai avanti come tutti gli altri compagni la strada è lunga abbiamo dieci partite queste dieci possono portarci i punti salvezza giochiamoci da fine in fondo e dobbiamo arrivare a fine campionato senza rimpianti avanti ragazzi